benvenuti amici di mobileOS.it quest'oggi stiamo facendo un video con l'Y520 di Huawei guardate quante difficoltà fa nell'attamenti alla luce quanti cambi luminosi finalmente ora in questa posizione riesce un po' a migliorare ma qualche problemino direi che c'è provo a fare uno zoom sul solito lampione ma direi è quasi impossibile riuscire a vederlo un video direi molto molto mediocre proviamo ad andare allora su qualcosa di più ravvicinato difficoltà di messa a fuoco abbastanza evidente